Con Mario Beretta parliamo inizialmente del campionato, adesso è diventata interessante praticamente nell'alta classifica soltanto la lotta per il terzo posto, d'accordo? Beh direi di sì, potrebbe ancora essere interessante anche per il secondo, dipenderà un po' dalle prossime due partite, però credo che il Napoli abbia tutta la qualità per mantenere il secondo posto e in effetti il terzo posto invece c'è una bella lotta, insomma soprattutto fra Milano e Fiorentina. Alla fine chi vede favorita per il terzo posto? Penso che sia il Milan, sia favorito, a parte per il vantaggio che ha in classifica, ma anche perché è tutto sommato una squadra di buonissima qualità e in più direi che tra l'altro con la rincorsa che ha fatto ha anche notevole entusiasmo, cosa che peraltro ha anche la Fiorentina perché insomma probabilmente non si aspettavano a Firenze di trovarsi in questa situazione, però credo che il Milan abbia qualcosa in più. Se poi dovesse fallire il terzo posto il Milan tornerebbe in discussione anche a Legri? Secondo me ha fatto un lavoro quest'anno veramente notevole perché è partito male, sono andati da tanti calciatori e di grande qualità che c'erano fino all'anno scorso, è partito male in campionato, non era assolutamente facile, hanno lavorato molto e secondo me come dicevo prima ha fatto un grandissimo lavoro e merita assolutamente di rimanere indipendentemente da quello che sarà la classifica finale e anche perché comunque c'è stata anche la valorizzazione di tanti ragazzi giovani. Se fosse invece al posto di Mazzarri rinnoverebbe con il Napoli oppure si prenderebbe un anno di pausa, valuterebbe altre soluzioni? Quello che dipende molto, soprattutto per quanto riguarda l'anno di pausa, dipende molto dallo stato d'animo di ognuno. Credo che non sarà facile prendere la decisione per Mazzarri perché comunque Napoli diciamo che l'ha costruito alla grande, l'ha portato ad altissimo livello e quindi credo che nel caso dove si sceglie ad andare via non è una scelta così da prendere a cuor leggero e dall'altra parte chiaramente ci deve essere una proposta nel caso che possa quantomeno pareggiare quello che è Napoli. Potrebbe comunque essere la soluzione giusta per Mazzarri quella di Roma, la Roma che ha bisogno di rilanciarsi alla grande dopo due anni deludenti? Mazzarri è sicuramente un tecnico che ha fatto benissimo sempre e che può andare bene per qualunque panchina di serie A insomma. Invece nel futuro di Beretta che cosa c'è? Nel futuro di Beretta è che quest'anno abbiamo dovuto per altri motivi non prendere in considerazione nessuna possibilità che avevo e però ripartirò l'anno 21 con grande entusiasmo e con molta voglia. D'altronde non so da quanti anni è che alleno e dai settori giovanili alle prime squadre quindi è il primo anno che mi capita di stare fermo totalmente e tutto l'anno però ripeto c'erano altri motivi molto importanti. Comunque pare di capire che probabilmente qualche idea su alcune panchine lei ce l'ha già? Sì sì qualche idea c'è e adesso chiaramente bisogna vedere se si controcretizza. Chiaramente serie A? Ma no anche ma anche i serie B non fate un discorso di categorie, faccio un discorso di interlocutori, questo è importante. Per chiudere tornando ai giocatori al di là dei grandi calciatori che si sono visti in questo campionato tra i più giovani chi è che le è piaciuto di più? Ma io credo che Sciarrao e De Sciglio in serie A abbiano veramente fatto bene, Florenzi ha fatto molto bene, stanno facendo molto bene, Berardi in serie B ce ne sono parecchi, Berardi mi sembra un calciatore veramente di grandissima qualità. In signe si è confermato? In signe pur chiaramente un po' chiuso davanti comunque da grandi campioni però ancora domenica ha dato dimostrazione che quando entra è in grado di fare veramente cose grandiose. Questo ci fa piacere perché a livello di calcio italiano è importante avere ragazzi che stanno crescendo e ragazzi di grande qualità, l'anno 21 è approdata al campionato europeo e credo anche con possibilità di fare bene. Ultimissima considerazione sul Siena, visto che lei l'ha allenato a più riprese, ce la farà salvarsi? Secondo me ci sono buone possibilità perché rispetto, tenendo conto del Pescara, che non è matematicamente a retocesso, ma è difficile che possa farcela, diciamo che rispetto a Genoa e a Palermo, il Siena ha la grande abitudine tutti gli anni di lottare in quelle posizioni, ha fatto una grande rincorsa per via dei sei punti di penalizzazione, quindi sotto l'aspetto dell'entusiasmo e dell'abitudine, come dicevo prima, a lottare per quelle posizioni è sicuramente avvantaggiato. È ovvio che dal punto di vista tecnico il Genoa e il Palermo hanno qualcosa in più, ma probabilmente in questo momento non è quello che conta, ma sono altre condizioni.